Ciao, sono Alex Sonofri e voglio rispondere ad una domanda che in questo periodo mi viene fatta abbastanza di frequente, ed è questa. Come fanno giornali, televisioni, pubblicità, marketing, politica a, in un certo senso, indottrinarci, manipolarci? Come fanno a, almeno, ad influenzarci? Ebbene, uno degli elementi che ho notato più di frequente è un insieme di tecniche volontari o meno, perché mettiamo sempre il beneficio del dubbio, volte ad abbassare il fattore critico della massa. La massa sono le persone, la massa di persone. Cos'è il fattore critico? Il fattore critico è la capacità di una persona alla critica, appunto, ad essere consapevole delle cose che riceve, che gli si propongono, e ad essere, appunto, critica, nel senso ad essere consapevole di vantaggi e svantaggi. Cioè, praticamente, a livello di quanto una persona sveglia nel momento in cui gli si pone di fronte una scelta, un discorso o qualsiasi altra cosa, un prodotto, eccetera. Se io abbasso il fattore critico di una persona, questa persona diventa molto più influenzabile e tenderà ad accettare ciò che viene proposto in modo direttamente proporzionale a quanto viene abbassato questo fattore critico. E come fanno ad abbassare questo fattore critico? Beh, una tecnica è quella dell'ovvietà. Ovvietà, come dice la parola, consiste nel dire cose ovvie. E perché dire cose ovvie abbassa il fattore critico? Ma perché noi, in natura, storicamente, nella nostra evoluzione, siamo degli esseri, come tutti gli altri animali, che tendono a, diciamo, risparmiare energie, risparmiare risorse. E questo vale anche per la mente. Quando una persona o qualcuno o qualcosa tende a dire cose che fanno rispondere al mio cervello in modo positivo, quindi tu mi dici, siamo qui, è una cosa positiva. Nel senso che è vero che siamo qui, sto parlando, ed è vero che stiamo parlando, che qualcuno sta parlando. Quando parliamo, ci riferiamo al nostro stato, diciamo, questo è il nostro stato, uno stato importante, eccetera, sono delle ovvietà. Se io dico tante ovvietà, la mente della persona tenderà a disconnettersi. Perché è come se io ti dico uno più uno, due, uno più due, tre, uno più tre, quattro. Dopo un po', dici, ok, la so, va bene, va bene, ok, la so, e praticamente stacchi consapevolezza. Perché? Perché dai questa consapevolezza a fattori esterni, magari, che vanno controllati, hanno un bisogno maggiore di controllo, dato che qua non c'è bisogno di controllo, perché vedi che va tutto bene. Dopo un po' che fai questa cosa, inizi a shiftare, a passare verso qualcos'altro, a cose meno ovvie. Ma quando? Quando fai questo? Quando il fattore critico della persona già si è abbassato. Allora, ad esempio, c'è un nuovo politico, tra virgolette nuovo questo periodo, che dice cose tipo, bisogna smettere di tassare i cittadini, perché noi non dobbiamo stare nelle aule di Parlamento, noi dobbiamo stare tra la gente, dobbiamo stare lì a sentire quello che loro sentono, guardare il mondo con i loro occhi. Vedete che sto iniziando a parlare per decine di secondi dicendo cose ovvie. Chi è che potrebbe mai dire che queste cose sono sbagliate? Guardare il mondo con gli occhi del cittadino, capire il cittadino, non stare in Parlamento, ma stare tra le persone, a capirle, stare eccetera eccetera, sono tutte ovvietà. Ovviamente la gente applaude, sbatte le mani, salta, insulta, perché dice sono cose vere, finalmente qualcuno che ci capisce, ma non capisce la persona stessa, il popolo stesso, o magari sì, ma non nella massa purtroppo, che queste sono sistemi di manipolazione. Perché la persona non sta dicendo niente di nuovo. Lo dicevano i romani più di duemila anni fa, quando usavano la retorica che i potenti dovevano mettersi nei panni dei meno potenti, lo diceva Gesù Cristo, lo dicevano tutte le grandi personalità, la filosofia, eccetera eccetera. Quindi niente di nuovo. Però quando una persona ha dato fiducia a qualcuno perché gli ha detto tutte queste belle cose, che sono cose belle, le sappiamo tutte, però sappiamo anche che in politica non sono le parole che funzionano, ma sono i fatti, i numeri e le cose concrete. Quando praticamente la gente ha dato fiducia a queste persone, poi queste persone fanno un po' come vogliono. oppure non fanno niente, come succede spesso in Italia, o fanno cose sotto banco. Allora, comunque, tornando alla tecnica. La tecnica consiste in questo. Consiste nel dire cose che verosimilmente sono giuste, ma in realtà non sono giuste, sono ovvie. Perché c'è differenza tra una cosa giusta e basta, una cosa giusta e ovvia. La cosa giusta e ovvia la possono dire tutti. Non ho bisogno di un politico o di qualcuno che viene in televisione e pagato milioni di euro per dirmene. Quando una persona inizia a dire cose ovvie, come Obama nei suoi discorsi di insediamento alla Casa Bianca, per le elezioni alla Casa Bianca, diceva questo è un grande popolo, noi dobbiamo unirci tutti insieme, noi dobbiamo sfidare l'ingiustizia perché noi abbiamo sofferto in passato e sono state persone che hanno sacrificato la vita per i nostri diritti. Sono tutte cose motivanti, cose che toccano il cuore, l'anima e il fisico, come si potrebbe dire, le tre grandi. E sono vere, sono condivisibili da tutti. Allora la persona inizia a riscaldare il proprio cuore, inizia a seguire questo politico, a dire, ah sì, è vero, vedi, lui ci capisce, lui qui. Sono cose che uniscono i popoli di tutti i colori, tutte le etnie, tutte le razze, tutti i sessi, tutte le età, qualsiasi cosa. E poi? E poi sono soltanto tecniche retoriche, potrebbe dire chiunque. Sono tecniche manipolatorie. Io le chiamo tecniche ipnotiche perché praticamente abbassano la soia cosciente. Ok? Allora, praticamente, come difendersi da queste cose? Ovviamente se volete utilizzarle, iniziate ad utilizzarle. Ma basta che copiate i politici, oppure fate qualche corso con me sul linguaggio persuasivo, ipnotico, eccetera, e imparate immediatamente. Però, cosa che forse serve a più persone, e non soltanto a gente fortemente motivata o con dei obiettivi un pochino più, diciamo, come posso dire, definiti e approfonditi. Come difendersi? Allora, chiedersi sempre, il discorso che sta facendo la persona. Mi sta dicendo qualcosa che io non so? Mi sta dicendo qualcosa di ovvio, scontato, che potrei anche non ascoltare perché tanto potrebbe dirmelo anche il mio bisnonno? Sì o no? Se la risposta è sì, allora riattaccare il cervello e dire, oh ragazzo, dimmi qualcosa che non so. Vai alla ciccia, vai ai dati, fammi vedere, dimostrami. Poi domandarsi, questa cosa mi è utile? È utile sapere che il nostro popolo è stato per tanti decenni tenuto sotto scacco da chissà chi che poi ci ha salvato, eccetera. Sì, va bene, ok, andiamo avanti però. Dove sono i dati? Dove sono le cose che possono portarci avanti, che possono darci supporto reale? Dove sta il tuo valore? E per valore intendo ciò che tu hai, che io non ho, perché altrimenti se il valore è distribuito, è una caratteristica comune, non è valore personale, valore che ti differenzia. Farsi queste domande. Farsi per esempio la domanda, ma la cosa che io ho chiesto a quella persona, sta rispondendo, praticamente la persona sta rispondendo a ciò che io ho chiesto realmente? Oppure sta passando di palo in frasca da una cosa all'altra senza rispondere effettivamente? Se io dico, dimmi questa cosa per filo e per segno, cosa farai, con quali metodi, entro quando? Voglio sapere delle risposte precise, voglio tornare a casa, che se io inizio adesso posso scrivere in un blocchetto le tue risposte, so esattamente le risposte che ti ho chiesto, perché tu mi hai risposto realmente. E non che hai detto, sì ma questa è una buona domanda, si vede la qualità della persona che pone questa domanda, perché è importante, come sono importanti altre cose e poi parla delle altre cose. Allora, farsi queste domande di controllo sul valore, sulla, praticamente come dico io, non sul fumo ma sulla ciccia effettiva. In questo modo porteremo di nuovo a galla il nostro fattore critico. Le nostre difese mentali non saranno più abbassate, ma saranno belle e vigili a proteggerci e a farci discernere il giusto dallo sbagliato, il buono dall'inutile, eccetera, eccetera. E se tutti facessero anche soltanto questo piccolo esercizio, nell'atto del voto, che è molto importante perché definisce chi ci governa praticamente, quindi definisce le politiche che ci comandano, magari darà il potere a qualcuno che è meno manipolatorio e un pochino più concreto, anche se potrebbe sembrare un pochino più imperfetto. Poni queste domande anche alla stessa cosa che ti ho detto oggi, attraverso questo file, e spero ti sia piaciuto, spero lo utilizzerai, che ti serva. E da Alex Onofre è tutto per ora e ti saluto. Ciao!